Noi compiamo ripartire, no non ripartire, noi compiamo ripartire. Non ce l'abbiamo con noi sindaco, ma dovete ascoltarci, puttana miseria, non ce la faccio più, 12 mesi senza lavorare. Non l'abbiamo fatto, nemmeno a raccogliere. Sindaco, il discorso è stato tutto, ci potete aiutare oggi, non domani in futuro, oggi ci potete aiutare, no e allora fateci riaprire tutti, perché o moriamo di covid o moriamo di fame, punto. Protesta accesa ma pacifica a Barletta, carica di delusione per tutti quei cittadini oramai senza un lavoro. Ci sono tutte quelle imprese, quelle attività, tutti quei lavoratori delusi dalle prolungate chiusure, dalle storie che non arrivano e se arrivano servono a ben poco. Si appellano al sindaco di Barletta, Cannito, affinché possa portare la loro voce al presidente della regione Emiliano e al governo nazionale. Noi ogni giorno che ci incontriamo con tutti i sindaci della regione Puglia, tutti i sindaci, tutti i sindaci, a gran voce, stanno chiedendo basta, basta.